Un posto al sole puntate dal 28 ottobre al 1 novembre, Eugenio fa una rivelazione a Viola. Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 28 ottobre al 1 novembre 2024 rivelano che ci sarà un riavvicinamento tra Viola e il suo ex Eugenio. Sarà proprio il PM a lasciarsi andare a una rivelazione inaspettata nei confronti della sua donna, di cui al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito. Per Rossella, invece sarà sempre più difficile gestire il rapporto in ospedale con il primario Fusco mentre Roberto sarà pronto a riabbracciare la sua amata Marina Giordano. Eugenio fa una rivelazione a Viola, anticipazioni un posto al sole dal 28 ottobre al 1 novembre e l'operazione che ha visto coinvolto Damiano nella cattura del bus torrente ha messo a dura prova non solo il poliziotto ma anche i suoi familiari. Viola ne è uscita fortemente provata da tutto ciò, al punto che si ritroverà ad avere un vero e proprio crollo emotivo nel corso dei prossimi episodi della SOAP previsti fino al 1 novembre. La donna sentirà il bisogno di sfogarsi e parlare con qualcuno e, contrariamente alle aspettative, troverà pieno conforto nel suo ex Eugenio Nicotera. Sarà proprio il suo ex e padre di suo figlio Antonio a consolare e supportare la donna in questo momento difficile, fino a spiazzarla con una rivelazione che si preannuncia inaspettata. Al momento, però, le trame non forniscono ulteriori dettagli su quanto succederà tra i due e su questa confessione che Eugenio sentirà il bisogno di fare a Viola. Rossella in crisi per colpa di Fusco, Roberto riabbraccia Marina le anticipazioni di un posto al sole. Dal 28 ottobre al 1 novembre, inoltre, rivelano che Rossella si renderà conto di vivere negativamente la situazione in ospedale con Fusco. I comportamenti del primario, sempre più morbosi, finiranno per renderla nervosa e la dottoressa cercherà di fare il possibile per non restare da sola con lui in ufficio, così da poter evitare situazioni imbarazzanti e spiacevoli. Per Roberto, invece arriverà il momento di riabbracciare Marina, la donna sarà pronta a tornare stabilmente a Napoli e chiederà a Ferri di trovare un punto di incontro per provare a salvare il loro matrimonio. Marina si era allontanata da Napoli dopo l'aggressione a Roberto Ferri. Nelle puntate precedenti Marina aveva scelto di allontanarsi da Napoli dopo essere finita nel mirino delle indagini della polizia per l'aggressione ai danni di Roberto. A colpire il ricco imprenditore era stata suor Maura, su tutte le furie per il comportamento aggressivo di Ferri nei confronti di Lara Martinelli. Per fortuna la verità venne a galla e la Dark Lady della SOP venne scagionata.